Nella Tarvisio Vaillant, 1963-2013 di 182 km, il Giro d'Italia ricorda le 1917 vittime del disastro di 50 anni fa e rende loro omaggio con una tappa impegnativa. Altimetria simile a quella di ieri ma pendenze assai meno severe. Dopo un'ora, oltre 53 orari, fuga di 20 uomini. Tra loro il vincitore del Giro 2007 Di Luca, quello della Vuelta 2011 Kobo, il leader del Gran Premio della Montagna Pirazzi, il vincitore di un Giro di Lettanti Sarmiento, l'ucraino Popovic, il russo Gusev, il tedesco Martens, il venezuelano Jackson Rodriguez, già a lungo in fuga il giorno precedente. Guadagnano rapidamente 5 minuti di vantaggio e si capisce subito che sarà la fuga buona anche perché la stana tira ma senza dannarsi troppo. Al Gran Premio della Montagna, sella di Ciampigotto dopo 120 km, il venezuelano Rodriguez infilza Pirazzi, partito troppo presto. Il laziale comunque consolida la maglia azzurra. Lungo la successiva discesa, il tedesco Patrick Grec, viceirridato a cronometro Under 23 a Varese, se ne va da solo e guadagna rapidamente un minuto e mezzo. Danilo Di Luca, che vuole una vittoria di tappa, intuisce il pericolo e prova due volte ad andarsene ma senza successo. In 19 è difficile trovare l'accordo e dopo Di Luca, ecco l'attacco buono. Lo portano il lituano Ramunas, Navardauskas della Garmin Sharpe, il Trentino, Daniel Ossa della BMC, che nel giro di pochi chilometri chiudono sul fuggitivo il quale, esausto per la lunga fatica solitaria, ben presto si stacca. Ossa e Navardauskas guadagnano rapidamente sugli inseguitori e sulla salita finale si giocano la vittoria di tappa, ma il duello non ha storia. Navardauskas, che da Under 23 vinse una Liege di categoria, si conferma il più forte in salita dei due, resta solo sin dalle prime rampe dell'ascesa finale, regala una grande soddisfazione alla Garmin Sharpe dopo il tracollo in classifica di Egedal. Ecco la reazione del canadese alla notizia del trionfo del compagno, che un anno dopo essere diventato il primo lituano a vestire per due giorni la maglia rosa al giro, diventa il terzo a vincere una tappa, aggiungendosi a Thomas Vaikus e Ignatas Konovalovas. Oltre un minuto il distacco del 25enne trentino Danielos, che si era giocato bene le proprie carte e ci riproverà. Terzo Pirazzi, che prende altri punti per la maglia azzurra. Poi il gruppo, che ha vissuto una giornata fondamentalmente tranquilla, dato che tra i fuggitivi non c'erano uomini pericolosi per Nibali. E dopo gli applausi a Ramona Navardauskas è lo squalo dello stretto, a salire sul podio per il quarto giorno consecutivo in maglia rosa.